Fino alle 16 si producono capi di alta moda, dalle 16 alle 18 e 30 mascherine contro il coronavirus. È un'azienda di Levane che per contribuire alla richiesta di dispositivi di sicurezza si è reinventata in pochi giorni grazie all'intuizione della titolare Franca Binazzi e delle sue dipendenti che regalano due ore e mezzo al giorno della propria vita per produrre mascherine che poi saranno regalate nei vari comuni del territorio per RSA, polizia municipale, uffici eccetera. L'idea è nata che mi ha sensibilizzato il sindaco di Montevarchi sabato sera perché comunque non sono la sola ci sono anche altre aziende che sono sensibili a questa mancanza chiedendomi l'elastico. Io domenica mattina sono andata da questa azienda che è qui di Levane che è un calzato ufficio che anche loro fanno le mascherine gli ho portato l'elastico che avevo e loro mi hanno dato un primo tessuto un primo tessuto che oltretutto è stato donato dalla nostra portavoce degli estetisti l'estetica Pagni di Montevarchi nella domenica io ho contattato altre persone che collaborano con me e mi è incominciato a arrivare il tessuto lunedì mattina ho parlato alle mie dipendenti e gli ho detto che c'era un bisogno nel territorio specialmente per le nostre forze dell'ordine e per l'ospedale e loro sono state subito disponibili a dedicare delle ore del loro lavoro per metterle a servizio della comunità. Circa 300 le mascherine che vengono prodotte al giorno in questa azienda dispositivi che servono per non trasmettere il virus da chi già ce l'ha sia con sintomi che asintomatico. Stamani mattina le abbiamo donate una parte al sindaco di Buscine per la casa di riposo sono state portate altre parti al comune di Montevarchi e quelle che usciranno domani si ridistribuiranno fra i due comuni che comunque noi a Levane lo sappiamo benissimo siamo in due comuni. Tutto il lavoro svolto per questa produzione è totalmente gratuito sia per le dipendenti che hanno accettato senza titubare che per l'impresa. È tutto gratuito infatti noi chiediamo materiale chi ce l'ha disponibile se ce lo dona noi realizziamo le mascherine in questo momento ce n'è tanto bisogno è veramente tanto bisogno mi duele il cuore perché anche le imprese hanno bisogno di mascherine per i propri dipendenti perché non riescono a trovarle e magari vediamo se riusciamo a farne parecchie di poterle dare anche alle aziende. In molti stanno contattando l'azienda di Franca Binazzi che è anche presidente di CNA Arezzo come sta succedendo per le altre aziende del territorio che si sono messe a produrre mascherine. Intanto anche l'ASL si è interessata a questa produzione straordinaria e sta valutando se questi dispositivi possono essere immessi all'interno degli ospedali al pari delle mascherine chirurgiche.